Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale, pochi parcheggi e rischio allegamento ancora più presente, non piace a parecchi commercianti il progetto di riqualificazione della Via Venezia, avviato in questi giorni dall'amministrazione comunale. Ieri una protesta pacifica per chiedere la sospensione dei lavori, una modifica al progetto, soluzione che al momento sembrerebbe esclusa dall'assessore ai lavori pubblici. Romina Morselli, sentiamo. Un progetto obsoleto che anziché potenziare il nuovo centro commerciale naturale di Via Venezia ne limiterebbe lo sviluppo, diminuendo le aree di parcheggio per i fruitori delle attività commerciali e aumentando il rischio di allagamenti in caso di forti piogge. Sono questi i motivi che hanno spinto diversi commercianti di Via Venezia a protestare contro i cantieri avviati dall'amministrazione sull'importante arteria stradale. Un lotto in particolare presenterebbe, secondo i residenti, diverse criticità e per questo ieri ne avrebbero chiesto la sospensione del cantiere e la conseguente modifica del progetto. Abbiamo visto che ci sono delle criticità perché verrebbe a restringersi in maniera molto evidente la Via Venezia. Questo per favorire una maggiore circolazione, però va a togliere una serie di parcheggi che sono naturalmente indispensabili per far sopravvivere l'attività commerciale. Quindi noi pensiamo che la riqualificazione, così come è stata progettata, senza delle correzioni che noi abbiamo proposto all'amministrazione comunale vada a danneggiare i commercianti. La creazione di nuovi marciapiedi di spartitraffico poi, secondo i commercianti, acquirebbe i continui allagamenti della Via Venezia durante le piogge. Andando a restringere Via Venezia con dei marciapiedi e con dello spartitraffico, quindi sicuramente il livello dell'acqua che si va a accumulare durante gli eventi di pioggia creerà un maggior livello e quindi ci sarà un maggiore rischio che l'acqua entri nelle attività commerciali, come già in passato è successo. I commercianti chiedono all'amministrazione di intervenire per modificare il progetto, soluzione che al momento però sembrerebbe essere esclusa dall'assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. Rivedere il progetto ora significherebbe incappare, in inceppare, in meccanismi, in lungaggini che in qualche modo potrebbero esporci anche ad azioni di responsabilità da parte della ditta appaltatrice con tutto quello che ne consegue in termini di stop del cantiere e rallentamento dell'opera che invece va conclusa entro un termine ben preciso che dovrebbe essere intorno ai 15 mesi, se non ricordo male. C'è chi dice da parte dei commercianti che questo progetto sia obsoleto rispetto al nuovo piano regolatore? Ci sarebbero delle modifiche da apportare per renderlo conforme a quello che è il nuovo piano regolatore per Via Venezia? Sicuramente è un progetto obsoleto perché risale su incarico dell'amministrazione crocetta a uno studio di ingegneria privato nel tempo, quindi parliamo di almeno una ventina di anni, ma è un progetto che è stato comunque rivisitato durante il periodo dell'amministrazione messinese dall'assessore lavori pubblici di quei tempi e quindi conoscendo anche la professionalità del collega che mi ha preceduto, io sono certa che abbia rivisto e rivisitato questo progetto anche alla luce del nuovo piano regolatore generale. Noi lo abbiamo ereditato ed era dovere dell'amministrazione comunale stringere i tempi per aggiudicare la gara entro il 31 dicembre 2022. Non è una riqualificazione strutturale, quindi io escludo anche l'ipotesi che ci possa essere un peggioramento delle condizioni in quel tratto di strada durante le giornate di pioggia, perché si tratta di una rigenerazione, di un abbellimento di via Venezia, che merita e necessita proprio di essere, di averlo questo progetto, quindi io spero che non ricorrano a tanto. Io mi auguro che possano ritornare a dialogare con l'amministrazione comunale e in qualche modo anche il dirigente Collura ieri ha dato qualche piccolo spazio e qualche piccolo segnale anche in un dialogo con me e in un confronto con me per apportare degli aggiustamenti qualora ce ne sia di bisogno. Il servizio in house affidato ad Impianti SRR partirà non prima del prossimo ottobre. Il contratto attuativo è stato firmato e ci sono le coperture necessarie in attesa dell'avvio, però si è resa necessaria una nuova proroga alla Tecra. Il contratto attuativo per il nuovo servizio rifiuti affidato all'inaus Impianti SRR è stato sottoscritto e ci sono tutte le coperture finanziarie necessarie per oltre 2 milioni di euro nell'anno in corso. Però le attività vere e proprie si concretizzeranno non prima del prossimo ottobre. Così con un copione piuttosto prevedibile il sindaco Lucio Greco ha dovuto disporre una nuova proroga a Tecra fino al prossimo settembre quando dovrà materializzarsi il passaggio di consegne tra la società campana e Impianti SRR. La nuova proroga è efficacia fino al 30 settembre senza l'avvio del nuovo servizio rifiuti. C'era il bisogno impellente di evitare qualsiasi stop della raccolta che avrebbe potuto generare conseguenze anzitutto di tenuta igienico-ambientale a maggior ragione con l'approssimarsi dell'estate. La comunicazione e l'ordinanza sono state trasmesse a tutti gli enti interessati alla stessa Tecra che ormai da quasi un decennio va avanti a suon di proroghe. Quella appena rilasciata dall'Avvocato Greco dovrebbe essere l'ultimo in assoluto. I vertici di Impianti SRR sono al lavoro da tempo per completare la dotazione dei mezzi e si procederà con il passaggio dei lavoratori del cantiere locale che entreranno a far parte dell'organigramma dell'In House. È probabile che prima dell'avvio vero e proprio delle attività previsto ad ottobre Impianti SRR con l'avallo della SRR4 effettuerà un periodo di pulizia straordinaria della città richiesto dall'amministrazione comunale. Per i prossimi tre mesi comunque Tecra dovrà coprire il servizio rifiuti che negli anni non ha certo brillato per efficienza ingessato da condizioni contrattuali che non sono mai state aggiornate e su questo aspetto l'azienda campana è passata alle vie legali chiamando in giudizio proprio l'ente comunale. Il rendiconto 2021 strumento finanziario che concentra su di sé quasi tutte le attenzioni amministrative degli ultimi lunghi mesi è chiuso. Oggi dovrebbe essere la giornata dell'approvazione in giunta. In realtà l'atto pare fosse pronto per essere approvato ieri ma per maggiori garanzie si è scelto di attendere 24 ore. Oggi infatti a Parazzo di Città ci saranno i revisori. Prima del sì in giunta il sindaco Lucio Greco, l'assessore al bilancio Mariangela Farace e i funzionari che hanno coordinato l'attività su rendiconto preferiscono avere una storia, una sorta di preliminare assenso proprio del collegio con il quale il confronto è stato quotidiano. Giusto un'ultima verifica così da evitare eventuali sorprese. L'approvazione dell'aggiunta farà poi partire tutta la trafila dei pareri fino all'aula. Consigliare il presidente Salvatore Sammito che ha sempre continuato a monitorare il percorso travagliato del rendiconto vorrebbe avere l'atto in aula al massimo entro la seconda settimana di giugno. I tempi sono stretti e l'amministrazione comunale di concerto col segretario generale Carolina Ferro e il dirigente al bilancio Pino Erba deve fornire il raguagli alla Corte dei Conti che attende i correttivi per evitare la strada del dissesto. L'ingegnere aerospaziale gelese Chiara Cocchiara ha incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Berga in occasione della giornata delle materie STEM. Pochi giorni fa la gelese a Palazzo Madama insieme al senatore Pietro Lorefici ha la richiesta di introdurre l'educazione spaziale nelle scuole. Proprio nella giornata in cui la stazione spaziale italiana sorvola la nostra città l'ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara ha guidato il team di docenti STEM e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga per la realizzazione del progetto sulla Spessa Economy in collaborazione con la Spessa Academy di Francoforte per una giornata dedicata allo svolgimento di attività di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica nell'ambito dell'educazione alla sostenibilità, obiettivo di Agenda 2030 secondo il nuovo approccio educativo basato su una didattica e dunque un apprendimento di tipo interdisciplinare. L'ingegnere gelese ha portato la sua testimonianza come donna di scienza e ha risposto alle curiose domande che le hanno rivolto gli alunni. È un'emozione bellissima essere qui con questi ragazzi e vedo la mia passione nei loro occhi e hanno studiato un corso su come andare nello spazio, come diventare astronauti e la cosa più bella è che non solo l'hanno studiato ma l'hanno messa in pratica. I ragazzi hanno studiato, hanno creato due progetti dove hanno lavorato proprio come degli astronauti mettendo i guanti di un astronauta e creando un satellite all'interno. Non potevamo perdere la grande occasione oltre che il privilegio di avere qui in persona l'ingegnere aerospaziale Chiara Cocchiara e portare appunto di persona ai nostri ragazzi quella che è la sua esperienza di vita. Solitamente si tende a parlare sempre di americani o comunque di altre nazioni più famose tra virgolette, invece proprio questa è un astronauta della nostra città che è andato sullo spazio e ha contribuito anche alle rupesco perte in campo spaziale. Per l'occasione da Roma si è collegato anche il senatore Pietro Lorefice che il 29 maggio, proprio a Palazzo Madama, ha presentato insieme a Chiara Cocchiara la richiesta di introdurre l'educazione spaziale nelle scuole. Per me è stato una passione, un sogno cui mi sono aggrappata, che ho tenuto a stretto e in cui ho messo davvero tanto impegno. Questo è un messaggio che ho voluto trasmettere ai ragazzi. Bisogna avere un sogno ma bisogna impegnarsi per realizzarlo. Ultimamente il mio sogno è stato accompagnato dalla volontà di creare un progetto di educazione, un progetto che non sia semplicemente per lo studente di immaginare quello che potrebbe conoscere, che potrebbe fare nel suo futuro, ma grazie alla High Space School che è l'azienda di formazione che ho creato. Si vede lo studente che partecipa in prima persona, lo studente che impara, lo studente che approfondisce e che è esposto a video e a conoscenze direttamente dallo spazio. Quindi un progetto che completa chiaramente la formazione tradizionale della scuola con un plus che è quello dello spazio all'interno delle discipline STEM. Nell'edizione 2022 è stata l'unica italiana ed europea a ricevere il Promise Award in occasione della settimana mondiale dello spazio nella Silicon Valley in California, il più grande network internazionale e interdisciplinare di individui e aziende del settore spaziale. L'ingegnere spaziale ha premiato i vincitori del contest, mentre i genitori degli studenti hanno organizzato un momento di pausa merenda per cena stellare in attesa che il cielo si brunisse, per permettere a turni l'osservazione delle stelle, condotto dai tecnici del planetario di Palermo. La cronaca giudiziaria per la Procura Generale e la condanna degli imputati coinvolti nell'inchiesta Leonessa vanno confermate anche in appello, viene però esclusa la contestazione mafiosa. Le condanne imposte in primo grado agli imputati coinvolti nella vasta inchiesta Leonessa sono da confermare praticamente in blocco, salvo alcune pene riviste. Così ha concluso ieri mattina la Procura Generale davanti ai giudici della Corte d'Appello di Brescia. Di fatto non c'è più riferimento alla contestazione mafiosa che invece la DDA Lombarda ha sempre sostenuto anche in primo grado rispetto ad un presunto connubio tra gli interessi stidari e il giro milionario di compensazioni fiscali illecite. 17 anni e tre mesi di reclusione sono stati richiesti per il consulente Rosario Marchese. Attualmente detenuto è indicato come la vera mente del sistema delle indebite compensazioni. In primo grado era stato condannato a 16 anni e un mese di reclusione, 7 anni e 3 mesi di detenzione. La conclusione alla quale è giunta la Procura Generale per Alessandro Sciglio che il collegio bresciano aveva condannato a due anni di detenzione, 4 anni e 2 mesi per l'ennesia Giovanni Interlicchia, 4 anni e 3 mesi a Simone Di Simone, 6 anni per il professionista Corrado Savoia, 8 anni e 2 mesi a Gianfranco Casassa, in continuazione con precedenti verdetti. Per Enrico Zumbo viene indicato il riconoscimento dei doppi benefici di legge. In primo grado era stato condannato a due anni di detenzione, doppi benefici di legge indicati anche per Carmelo Giannone, rappresentato all'avvocato Maurizio Scicolone che in aula ieri ha esposto le ragioni del ricorso escludendo che l'imputato abbia mai fatto parte di un gruppo attivo nelle truffe all'erario attraverso le compensazioni. Gli unici rapporti che ebbe con Marchese, secondo il legale, furono dovuti a vincoli familiari. Giannone in primo grado era stato condannato ad un anno e 8 mesi di detenzione. Conferme sono state inoltre chieste per Giuseppe Arabbia in primo grado, 4 anni di reclusione, ma la Procura Generale ha concluso per la revoca delle sospensioni condizionali rispetto a precedenti condanne. Conferma anche per Angelo Fiorisi in primo grado, 7 anni e 8 mesi, ancora per Antonella Balocco, il collegio di Brescia, dispose 7 anni e 4 mesi. A soluzioni giunsero in primo grado invece per Salvatore Antonuccio, Giuseppe Cammalleri, Matteo Collura, per l'avvocato Roberto Golda Perini e per Danilo Cassisi. In aula per le conclusioni dei legali si tornerà a luglio, la decisione dei giudici Bresciani è prevista invece per settembre. A testimoniare in aula davanti al collegio penale del Tribunale sono stati tre esercenti di frutto e verdura, tra quelli citati dalla difesa di Emanuele Cassarà, sua volta titolare di un punto vendita. È accusato di aver fatto pressione su un altro operaio, Saveri Oscilio, per imporgli la chiusura della rivendita che aveva avviato in centro storico. Cassarà, difeso dal legale Sinatra, ha lasciato il carcere dei domiciliari. Questa mattina era in aula. Gli esercenti sentiti hanno tutti riferito di non aver mai avuto problemi con l'imputato nei eventuali dissidi lavorativi. Ci vedevamo nei mercati all'ingrosso, hanno detto. Sono stati citati i titolari di attività che si trovano a poca distanza da quella di Cassarà, che invece secondo la DDA di Caltanissetta avrebbe imposto la chiusura a Scilio per eliminare la possibile concorrenza nella stessa zona. L'esercente, che chiuse parte civile nel procedimento, ha sempre confermato la sua versione dei fatti nel corso dell'esame testimoniale. Uno degli esercenti ha però riferito di non aver avuto rapporti tesi proprio con Scilio quando aprì la rivendita in centro storico. Un agente della Municipale ha ricordato un controllo dell'attività di Scilio e l'attenzione che si venne a generare con insulti a danno dello stesso Vigilio Urbano. Uno dei fratelli di Scilio, testimone in aula, ha raccontato che con l'apertura in centro storico ammazzava i prezzi applicando quelli più bassi a discapito di altre botteghe vicine. Ha anche riferito di non aver avuto rapporti con fratello ormai da alcuni anni e in base alle contestazioni Cassarà avrebbe preteso la chiusura dell'attività di Scilio anche attraverso l'intercessione di Marco Ferrigno e Massimo Terlati a processo ma con rito alternativo. Dall'Assemblea Generale della FICTEM CGL Provinciale è arrivato l'invito pressante a fare in modo che gli investimenti strategici sul territorio, soprattutto quelli di Eni, trovino la via piena della realizzazione. Il futuro più immediato del sito industriale locale passa inevitabilmente da investimenti che vanno realizzati. Ieri mattina è stato ribadito nel corso dell'Assemblea Generale della FICTEM CGL Provinciale. Il segretario Rosario Catalano ha posto le priorità che dovrebbero assicurare riscontri anzitutto occupazionali ma non solo. Davanti al segretario regionale Giacomo Rota sono state passate in rassegna le attuali fondamenta di un settore industriale in città ormai segnato dalla riconversione di raffineria. Secondo Catalano non è più possibile rincorrere le emergenze, bisogna invece avere una progettualità per affrontare le sfide della transizione energetica, infrastrutturale e digitale con progetti seri e duraturi. Ha citato la pandemia ma anche l'attuale conflitto in Ucraina che stanno segnando proprio le vicende sia a livello internazionale che a livello nazionale. È inevitabile che gli effetti si determinano anche sul piano locale, in un territorio che sta puntando proprio sull'energia. Quindi secondo il sindacalista vanno portati a termine i progetti di sviluppo del giacimento di gas argocassiopea, la realizzazione dell'impianto biogette e le bonifiche delle aree dismesse. Inoltre bisogna, vista l'età media della forza lavoro in Eni, pensare ad un ricambio generazionale nel sito locale con l'impiego dei giovani neodiplomati e laureati, evitando così la migrazione verso il nord Italia o addirittura all'estero. L'insistito refrain sindacale del resto non cambia anche secondo i vertici della Filtem. Va attuato pienamente il protocollo d'intesa del 2014, gli investimenti della multinazionale e le bonifiche sono capitoli essenziali nella disamina dei sindacalisti che ieri mattina si sono confrontati con i delegati alla Camera del Lavoro. Alla presidenza dell'Assemblea per il prossimo quadriennio è stato eletto Antonio Scordio, dipendente Eni Rewind, e vicepresidente sarà Silvana Incarbone, dipendente invece di Eni. Oltre a toccare aspetti che concernono i temi nazionali, il dibattito si è steso a caltaque alla flessione attraversata dal gruppo italo-spagnolo che controlla il sistema idrico in provincia dovuta al mancato adeguamento delle tariffe previste da Rera e al caro energia. Anche le reti elettriche tendono a non assicurare grande efficienza. È stato riferito infatti che nel distribuzione invece di aumentare la capillarità dei presidi cerca di razionalizzare allungando a dismisura il disagio degli utenti. In caso di intervento per guasto gli investimenti quindi sul territorio parlano sempre di Eni e si confermano sostanzialmente uno dei temi principali in un contesto economico che ancora oggi è assolutamente deficitario e legato a doppia mandata proprio al cane a sei zampe. Ora con un programma imperniato sulle produzioni sostenibili. Ed è iniziata alle 10 di questa mattina al playground di Macchitella la tanto attesa giornata dell'arte 2023 si protrarrà fino a tardanotte. La manifestazione studentesca che torna a Gela dopo cinque anni di fermo non è stata appoggiata però da alcuni dirigenti scolastici che hanno impedito ai propri studenti di lasciare le lezioni in tempo per poter partecipare. È iniziata stamattina alle 10 la grande festa organizzata in occasione della giornata dell'arte che torna a Gela dopo cinque anni. Siamo felicissimi questa giornata che sia finalmente arrivata, siamo contentissimi della partecipazione delle scuole, degli studenti, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile quindi del risultato speriamo che vada tutto bene fino a stanotte in un strada. Sono molto un po' amareggiato in questo preciso istante perché sono delle scuole che non hanno aderito come orario all'inizio dell'evento, specialmente le scuole dello scientifico e della ragioneria, che i dirigenti non hanno permesso di far partecipare i ragazzi fin dall'inizio e quindi faccio questo appello, è veramente brutta questa cosa, non è bello perché è un evento culturale per i ragazzi e i ragazzi non possono essere qui per colpa di altri quindi mi dispiace questo. Sono circa 20 i ragazzi che durante la giornata si alterneranno sul palco, musicisti, cantanti e ballerini che hanno lavorato duramente per poter dare il loro contributo a questa giornata tanto attesa. Abbiamo portato alcune esibizioni tra cui una di Urban Dance e poi anche un'altra di Ilz sui tacchi stasera e poi io porterò appunto una solo che si chiama Joker e lei portare una canzone appunto di canto stasera. Perché avete deciso di esibirvi oggi? Perché penso che l'arte sia una cosa comuna a tutti noi persone che amiamo ballare, cantare, recitare, qualsiasi cosa e penso sia una grande qualità, è una cosa da portare avanti ogni anno, una giornata importantissima. Ci siamo esibiti per la prima volta in un'assemblea scolastica, però adesso ci esibiamo con una scaletta di ben quattro brani tra cui un medley, ci esibiamo, ci esponiamo al grande pubblico per così dire. Questo sarà secondo me un evento riuscito bene, soprattutto perché tanti ragazzi che si esibiscono ci credono davvero, vogliono coinvolgere il pubblico, ci divertiremo tanto. Non sono esibizioni in questa giornata dell'arte che punta a dare il meglio in ogni campo. Lateralmente al palco sono stati posizionati degli stand che offrono diverse alternative agli studenti gelesi. La nostra associazione gira attorno a tutto quello che convenzionalmente viene chiamata cultura nerd, quindi si occupa di giochi da tavola ma anche di videogames, anche di anime, manga, tutto ciò che appunto riguarda il ruoto attorno alla cultura pop o nerd appunto. Quindi la nostra idea è quella di creare una community a Gela appunto che lega tutti questi ambiti sia da livello competitivo sia anche a livello di intrattenimento e basta. Il CIRS è oggi presente alla giornata dedicata all'arte giovanile, sì, body painting, quindi il trucco totale artistico, quindi la giornata è perfetta. Ospite dello stand occupato dalla Libreria Orlando, lo scrittore Giuseppe Raffa che ha presentato il suo ultimo libro. Mi trovo benissimo in mezzo ai giovani, ne vedo tanti, io faccio i miei complimenti pubblici alla Generazione Gela, alla Libreria Orlando che mi ospita qui. Una bella presentazione, una bella mattinata, il mio libro che si chiama Fuori dalle bolle social, diretto ai docenti, agli educatori, ai genitori in buona sostanza. Ed è uno studio di questa generazione qui, o meglio delle ultime due, che noi non conosciamo e abbiamo il dovere come adulti di riferimento di studiare, di osservare, di conoscere e capire e quindi educare e entrare nelle loro bolle è complicato. Dobbiamo attirarli fuori con umiltà, cercando di fargli capire che dentro i social, dentro le tecnologie, ci sono tanti problemi, tanti rischi. Anche il Santuario di Maria Santissima d'Alemanna partecipa all'iniziativa nazionale della Notte dei Santuari, unendosi in un'unica preghiera. Il programma prevede, con inizio alle 17, in linea con i santuari indicati all'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana, l'accensione di fari come simbolo di speranza e di misericordia, luoghi dello spirito per un ritrovato cammino di conversione. Nel sito è retto in onore di Maria Santissima dell'Alemanna, nel villaggio Aldisi è retto da Don Rosario Sciacca, si inizia con la meditazione del Santo Rosario e dalle venti si prosegue con la veglia di preghiera e adorazione eucaristica. E' tutto, il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti, vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it, adesso vi lascio le previsioni medie, grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.